Sì, sì sì… L'altro, perché stanno questa nuova video che gli sei? No, non è ancora un problema, non ci dormiamo, non ci dormiamo, è un bel periodo, è un bel pezzo, non è un bel pezzo, non si, non si, non no. Sì, è stata un pachio. ítul. Corolla, un po' sè. E' un po' sè, è un po' sè… Noi, non si, non oppure non andiamo a fare un po' sè. Ora, è il terzi paolo, è il terzi paolo, che è la capponica del destra. Ah, tui, non mi farei ancora, tui, non mi ha mai 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 vedere? È un po' sè… Sì, non mi ha mai avuto. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.